Oggi mi sento carico forse perché ho mangiato troppa cioccolata chissà io vi sfido se superiamo i 10 like io spendo queste gemme in un torneo da 2000 gemme quando arriverò in un giorno quindi spolliciate mi raccomando 10 like ciao ragazzi ed eccoci qui avete mangiato il cioccolato io penso di sì perché se è fatta una certa sono veramente è dopo pranzo e quindi penso di sì e ragazzi oggi abbiamo questi bauli come Pasqua come spacchettamento Pasquale e Clash Royale da Natale quello scorso ha deciso di diventare ateo perché niente non c'è un baule suo non c'è un baule che ci regala Clash Royale io innanzitutto vorrei fare i ringraziamenti al mio clan che entro oggi abbiamo fatto il baule del clan di livello 10 e quindi ti ringrazio a tutti loro veramente grazie 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 e niente di che incominciamo subito col baule omaggio tanto non ci troviamo niente oro gemme sfere bombarolo non abbiamo trovato niente baule omaggio oro goblin e fornace e ora il baule della colonna ci troviamo l'oro gemme spirito di ghiaccio frecce a rete da battaglia e il principe che a me non serve più perché adesso uso il principe nero ma ora incominciamo con questi tosti prima di aprire questi apriamo il baule del clan via mamma mia oh e dai ok oro scheletri goblin lanceri spere cannone gigante royale a rete da battaglia e niente una epica che è il pecca e adesso è l'ora di questi bauli e allora iniziamo subito dal baule magico questo qui che l'ho ricevuto ieri ho fatto un errore veramente manornale a come dire ad aprirlo e per fortuna che l'ho ritrovato un altro questo qui ieri e trovate lo spacchettamento sul canale di telegram di quello baule magico così tanto non ci ho trovato niente allora cavaliere cannone arrivere a battaglia e niente boia non mi interessa abbiamo con questo baule magico ancora oro sgherri tomatore moschettiere arcieri barbari mega sgherro pecca niente e niente non mi esce la leggendaria quanto commettete oro orda di sgherri mazza solo 5 gigante royale mortaio tre moschettieri capanna dei barbari cucciolo di drago niente e niente cucciolo di drago ma non mi interessa è ora di aprire questo ultimo baule speriamo di una leggendaria perchè se non c'è io rimango male ci rimango male vediamo un po' oro sgherri mega sgherro cavaliere frecce domatore valchiria niente non mi dire no no non ci credo niente leggendaria no vabbè no vabbè vabbè raga non ci credo non ci credo io non ci credo non ci credo proprio niente nessuna leggendaria nessuna leggendaria a sto punto però ragazzi siccome abbiamo questi soldi meglio comprare un uno strigone elettrico non ho mai comprato dallo shop ma compriamolo così tanto per raga c'è io ho fatto una faticaccia all'accumulare quelli di bauli niente leggendaria grazie cherserroial grazie grazie mille e ragazzi io non ho niente da dirvi lasciate like per questo video e se superiamo io vi sfido se superiamo i 10 like io spendo queste gemme in un torneo da 2000 gemme quando arriverò in un giorno quindi spolliciate mi raccomando 10 like minimo minimo e ragazzi io vi saluto seguitemi sul canale di telegram chi non è iscritto iscrivetevi subito e lasciate like vi ricordo 10 like per un torneo di 2000 gemme quindi non perdetelo e ragazzi mi raccomando buona pasqua ancora e ciao ma comunque che spacchettamento di merda che spacchettamento di merda e e e e e e e e e